ciao in questo video ti farò vedere come realizzare la tecnica per per realizzare il rovescio tieni con la mano sinistra il filo ben teso sul davanti con la mano destra invece entri da dietro sul davanti fai passare il filo da sopra sotto ed esci con la mano destra da dietro verso davanti entri con l'indice sinistro fai scendere il filo rientri nella maglia ed esci entri fai passare il film scendi ed esci entri da sopra sotto e riesci sopra sotto ed esci